Questo è forse uno dei momenti più iconici dello sport mondiale. Lui è Michael Jordan e questo è il tiro con cui ha vinto il suo ultimo leggendario titolo. Ma cosa c'entra questa immagine con il trading? C'entra molto più di quanto pensi in realtà. Michael Jordan, uno degli sportivi più forti di sempre, per arrivare a questo ultimo leggendario tiro ha dovuto perdere oltre 300 partite e sbagliare oltre 9000 tiri durante la sua carriera. E questo ci insegna che nella vita, nello sport e nel trading non esistono scorciatori. L'unica cosa che realmente può portarti al successo è lavorare più duramente della concorrenza. E sui mercati finanziari la concorrenza è spietata. Quindi se fai parte di quella schiera di trader che ha smesso di cercare le scorciatoie, che ha smesso di credere che possano esistere strategie segrete o strumenti che possono fare il lavoro al posto tuo, ho una buona notizia per te. Ho organizzato un webinar in cui parlerò esattamente di questo. Ossia quali sono gli errori da evitare assolutamente, ma soprattutto come poter andare a costruire un processo di trading solido, consistente e soprattutto profittevole. Quindi non devi fare altro che cliccare sul link per iscriverti al webinar ed essere sicuro di partecipare, perché le informazioni che riceverai ti porteranno nel tempo ad essere un fuoriclasse esattamente come Michael Jordan.